buongiorno amigli buongiorno amigli video un po diverso dal solito con un argomento sempre calcistico ma particolare parliamo delle magliette di calcio perché abbiamo visto ho visto le nuove magliette di juventus e inter e volevo approfittarne per fare un commento vi ricordo di iscrivervi al canale di aiutarmi a condividerlo mandatelo ai vostri amigli youtube e anni che seguono il calcio fateli iscrivere e se volete seguitemi anche su instagram profilo alessandro catto 91 allora andiamo al tema delle magliette io non so perché da qualche anno a questa parte c'è questo obbligo alla sperimentazione specie nei grandi club cioè io posso anche capire anche se non ne sono così convinto che la juve l'anno prossimo scelga la maglia a quarti per la questione del marketing però voglio dire non è che tutti gli anni dobbiamo stravolgere la tradizione delle squadre e la tradizione delle maglie cioè ci sta se tu nell'arco di 15 anni 17 anni un anno fai l'anno di sperimentazione giochi con la maglia particolare quello ci sta ma qui sembra che ogni anno che passi si debba fare la sparata più atroce per fare le magliette diverse le magliette di calcio delle squadre non sono oggetti non dovrebbero essere oggetti di sperimentazione ma dovrebbero essere oggetti identitari nei quali risiede una tradizione risiede uno spirito un'anima che sono immutabili nel tempo e sono anche la forza stessa di quel club capito cioè trovo veramente di cattivo gusto il fatto che ogni anno si debba sempre andare a sperimentare sulle magliette anche l'inter è da 4 5 anni che non riesce a fare una maglietta normale cioè e l'anno con la maglietta del codice a barre e l'anno con la maglietta stile pigiama con le righe azzurre sottilissime e l'anno prossimo che adesso sembra che si metta sta maglietta con le righe normali e poi al centro sotto lo sponsor le righe messe per trasverso sembra sapete cosa avete mai visto nei video qui su youtube in cui prendono una pressa idraulica e si divertono a spaccare gli oggetti ecco la maglia dell'inter sembra una pressa idraulica quella dell'anno prossimo che ho messo anche qui in impressione non la comprerei mai o quella della juve quella della juve sembra un palio di siena oppure vai a monza dove c'è la formula 1 al posto della bandiera scacchi sventoli quella quando arrivano le macchine e arriva ma poi voglio dire non è tanto per quello perché ripeto se fosse una sperimentazione ogni 15 anni che dici al quindicesimo anno faccio la maglia strana gioco così anche l'udinese mi ricordo che un anno giocò con una maglia a tre righe e una riga era tipo storta o due righe erano storte quando c'erano di michele di natale all'udinese un anno su 15 16 ci può anche stare ma non che ogni anno ti diverti a sperimentare sempre più e le maglie italiane sono quelle quest'anno la juve oltretutto aveva anche una maglia bella perché era elegante secondo me la maglia della juve di quest'anno aveva delle righe un po' grosse per la storia della juve però era anche bella era una maglia fatta bene molto pulita molto essenziale non so perché è andata a fare sta cosa per l'anno prossimo per esempio a me come come accostamento cromatico tra le tre grandi la maglia che mi piace di più come accostamento cromatico è quella del milan perché rosso e nero stanno molto bene assieme come colori secondo me cioè tra bianco nero nero azzurro e rosso nero preferisco il rosso nero anche il bianco nero filosoficamente sarebbe un bel concetto però è bella filosoficamente ma cromaticamente non mi piace il nero azzurro è un accostamento che non mi piace così come non mi piacciono le maglie azzurre di Lazio e Napoli l'azzurro è un colore bambinesco non mi piace molto la Roma ha negli ultimi anni migliorato la propria immagine perché una volta era sia a livello di logo che di maglia una squadra un po' spartana ultimamente si è molto latinizzata diciamo anche nello stemma mi piace la Roma la Fiorentina altro mappazzone di maglie non ho sopportato di vedere in questi due anni la Fiorentina giocare con le maglie azzurre e verdi per il quartiere ma cosa vuol dire ma mica siamo l'Avellino o il Napoli per l'appunto a me vedere la Fiorentina che gioca in verde e in azzurro mi girano già le palle devo però dire che la prima maglia di quest'anno quella viola con i pantaloni neri mi piace forse l'unica cosa bella di quest'anno è la prima maglia anche la seconda maglia è carina però anche la la maglia della Fiorentina è la prima maglia è viola la seconda bianca la terza se la vuoi fare rossa oppure la fai bianca e rossa a quadri che sarebbe quella tradizionale del colore della città non è che devi fare le maglie verdi perché cioè non è che in nome del marketing si può fare tutto secondo me poi ripeto vorrei anche sono curioso di vedere l'anno prossimo quanti prenderanno la maglia della Juventus almeno in Italia quindi cioè io starei sul solco della tradizione poi le maglie puoi anche cambiarle poi puoi diversificarle però sempre rimanendo in un alveo della tradizione mi ricordo un'altra maglia molto bella è stata quella del Milan sempre mi pare nel 99 2000 che poi era la maglia storica del Milan quella con le righe rossonere molto sottili e lo stemma sforzesco di Milano la croce rossa su sfondo bianco al petto quella era una maglia molto bella che tra l'altro richiamava le primissime maglie del Milan perché il Milan ha sempre avuto quel richiamo storico a righe molto sottili mentre Inter e Juve ce le hanno tradizionalmente più grosse quindi io sul discorso delle maglie mi dà fastidio agli occhi vedere questa sperimentazione inutile questa sperimentazione forzata perché l'Inter non può giocare con la sua maglia normale che è quella nera azzurra a righe basta cosa c'è da andare a sperimentare cioè se la mia faccia è tradizionalmente questa non capisco perché me la devo pitturare di marrone voglio dire o di verde cioè c'è una storia la maglia del club fa parte della storia andrebbe conservata è una tradizione non capisco perché devi metterti a fare pigiami questioni cose facciamo giochiamo con le maglie tradizionali come per esempio la Sampdoria la Sampdoria è stata di recente nominata come la maglia più bella del mondo hanno ragione ha avuto il merito di non aver mai cambiato ce ne mancherebbe altro dico io però la bellezza delle maglie sta nel loro richiamo nel loro eco nel loro essere e rappresentazione di un qualcosa di storico e quello è anche il bello del calcio non capisco perché dobbiamo farci del male da soli per non precisati motivi di marketing ditemi cosa ne pensate un caro saluto